Buchi neri scatta la controffensiva al degrado urbano del comune di Avellino che ha avviato una sorta di caccia ai proprietari di tanti scempi che rendono molte zone del comune capoluogo anche centralissime prigioniere del degrado. Era uno dei punti forti del programma del sindaco in tempi di campagna elettorale. Gelloca Festa lo ha più volte sottolineato anche all'atto del suo insediamento. Basta strutture fatiscenti che risultano pericolose per l'incolumità dei cittadini e non rendono giustizia al volto della città. Tra Via Tedesco e Corso Umberto, arterie che fungono anche da biglietto da visita del capoluogo perché arriva da fuori, sono numerosi punti più o meno piccoli che deturpano l'immagine della città capoluogo. Muretti, piccoli angoli abbandonati e lasciati all'incuria e nascosti dall'erbaccia e strutture più visibili come la chiesetta sconsacrata di Via Tedesco nei pressi del poligono poi diventata cappella privata. Il comune ha avviato una tortuosa ricerca dei proprietari, per ora non tutti. A loro ha fatto reperire il costo conteggiato negli ultimi cinque anni della TOSAP che si attesta sui 290 mila euro. I proprietari stanno già valutando una cessione all'ente di piazza del popolo. Il buco nero per eccellenza sia per la posizione centralissima che per l'enormità della struttura è Palazzo Trevisan. Pieno centro, pieno corso Vittorio Emanuele, alla base delle mosse del comune l'incolumità pubblica e il pubblico interesse. Le motivazioni che hanno dato al comune di Avellino la possibilità di mettere un'ordinanza che impone ai proprietari e all'amministratore dello storico edificio l'avvio della rimozione dell'impalcatura e l'inizio dei lavori di restauro entro 30 giorni che ammontano a circa 3 milioni di euro. Progetto che giace tra le carte del comune da 10 anni perché non è mai stata ritirata la concessione per il restauro. Carte già inviate e ricevute dai destinatari, inviate e anche contestate. Se non si dovesse dare seguito a quanto imposto dall'ordinanza l'ente città potrebbe pignorare la struttura e venderla all'asta. L'ordinanza è già scaduta per chi inviata un mese fa. Inoltre il comune ha chiesto il recupero di oltre 400 mila euro per le tasse arretrate sulla concessione del suolo pubblico dell'impalcatura non prescritta nell'ultimo quinquennio. I proprietari si sono appellati ad autorizzazioni in sanatoria per il passato ma il comune ha già appurato che i proprietari non hanno più alcuna autorizzazione. Ad Asso Servizi infatti è stato dato mandato di recuperare la somma dovuta fino al pignoramento della struttura. Tasse arretrate e ristrutturazione. Il comune non sente ragioni e vuole andare fino in fondo le procedure anche per la riqualificazione di altre zone non saranno brevi ma dopo un attendismo di oltre 40 anni qualcosa si muove.